Firmato questa mattina il protocollo d'intesa tra Università degli Studi di Salerno ed Unicredit. Lo scopo è agevolare finanziare supportando la crescita di nuove start-up giovanili. Ai nostri microfoni il magnifico rettore dell'Università di Salerno e Felice delle Femmine, Regional Manager per il Sud Italia ed Unicredit. Firmato il protocollo d'intesa tra Università degli Studi di Salerno ed Unicredit, a testimonianza di quanto l'Università creda nelle start-up a cui capo ci sono i giovani. Sì, l'Università ci crede. La cosa importante è che oggi ci crede anche l'Unicredit, che ha portato il responsabile di tutto il Sud Italia a firmare questo accordo e ha speso parole importanti per l'Università. Nella convinzione che le imprese che in qualche modo nascono nell'alveo dell'Università oggi si possono giocare una carta importante, che è quella della reputazione dell'Università degli Studi di Salerno, che noi abbiamo costruito nel tempo e che dobbiamo difendere, selezionando i nostri interventi, ma nella convinzione che questa possa essere la migliore garanzia che le start-up possano offrire a chi svolge poi attività finanziaria per poter garantire la loro esistenza e la loro crescita. A consolidare la reputazione dell'Università di Salerno sono le numerose iniziative che sembrano susseguirsi l'una dopo l'altro giorno dopo giorno. Non ultima, la borsa della ricerca prevista per luglio. La borsa della ricerca è un format che esiste a livello nazionale e che si organizza a Bologna. Noi abbiamo avuto l'idea di voler fare una borsa della ricerca for Sud nella convinzione che qui ci siano nel nostro territorio, diciamo in campagna e nel mezzogiorno, ci sono delle potenzialità di interesse straordinarie e ne testimoniano, diciamo, l'interesse che c'è stato di prese anche molto rilevanti che verranno qui nel nostro campus a animare queste tre giornate, che l'interesse è stato molto forte. Quindi io credo che per il Sud non ci sia alternativa sia per uscire dalla crisi nell'immediato e sia per provare a colmare il divario rispetto, diciamo, alla velocità di altri territori e sia soprattutto a trattenere persone, cioè i nostri laureati, le nostre migliori intelligenze del territorio. L'unica alternativa è quella di investire in ricerca, investire in innovazione e credo che l'Università di Salerno in questo senso, diciamo, dimostrerà con la propria capacità organizzativa di poter dare un contributo in questo senso. Firmato questa mattina il protocollo d'intesa tra Università degli Sud di Salerno ed Unicredit. Con Felice Delle Femmine, Regional Manager per il Sud di Unicredit, questa azione, questo gesto compiuto questa mattina sancisce ancora di più l'iniziativa di Unicredit nel supporto del Sud Italia, soprattutto della provincia salernitana? Assolutamente sì, io andrei anche oltre tutto questo perché responsabilmente sappiamo che in questo momento insomma il Sud rappresenta e deve affrontare quotidianamente dei problemi strutturali. Noi ci stiamo credendo, abbiamo una strategia per il Sud. Nell'ambito di questa strategia che non sto qui a richiamare, un pezzo fondamentale è rappresentato dall'innovazione e dalle start-up. e dalle start-up. Quindi abbiamo un progetto che ben si coniuga con l'idea della ricerca e dell'innovazione che è quella appunto del credito di filiera e quindi riteniamo di avere una soluzione e quindi un exit strategy proprio per le nuove aziende innovative. Ovviamente da dove partiamo? Partiamo dall'Ateneo perché è un incubatore virtuale, peraltro l'Ateneo di Salerno ha una sensibilità che devo dire arriva da lontano ma che oggi riscontro essere ancora più sviluppata relativamente proprio al favorire la ricerca e quindi la nascita di nuove start-up. È piena di giovani, noi guardiamo i giovani con grandissimo senso di responsabilità e oggi dobbiamo contribuire, non siamo noi a dover risolvere il problema, ma possiamo come attore bancario contribuire assolutamente a creare delle nuove opportunità occupazionali anche per i giovani. Quindi tutto questo si cala in questo quadro strategico che Unicredit sta adottando al Sud, è un gruppo internazionale, è una presenza internazionale, però guarda l'Italia e devo dire da responsabile del Sud, dal Sud con grandissimo interesse. È dal Sud che si parte se si vuole riportare il nostro Paese su basi assolutamente di crescita e di sviluppo più intonate.